La Basilica di Santa Giustina accoglierà martedì mattina alle 10.30 la famiglia di Chiara Iaconis e tutti coloro che vorranno partecipare al funerale della trentenne padovana, morta a Napoli dopo essere stata colpita in testa domenica scorsa da una pesante statuetta caduta dal balcone di un'abitazione dei quartieri spagnoli. Vista la commozione che la triste vicenda ha suscitato si attende un'enorme partecipazione e così la grande basilica cittadina ha sostituito la piccola chiesa della Madonna Incoronata, la parrocchia dove Chiara era cresciuta, a celebrare i funerali Don Carlo Cavallin che conosceva molto bene la trentenne e la sua famiglia e padre Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina. La scelta anche di Santa Giustina è una scelta anche logistica, il notevole afflusso di fedeli. La nostra basilica essendo una delle chiese più grandi del mondo consente veramente anche in sicurezza di poter accogliere le esequie di Chiara. E poi credo che ci sia anche un valore simbolico, è una chiesa dedicata a una giovane donna morta per la fede ma che anche lei comunque ha subito una morte ingiusta e una morte tragica. Nella basilica di Santa Giustina a dicembre erano stati celebrati i funerali di Giulia Cecchettin e nelle scorse ore il papà di Chiara è espresso proprio il desiderio di incontrare Gino Cecchettin. Gianfranco Iaconis spera sia fatta chiarezza sulla morte della figlia e anche se non c'è stata volontarietà spera che chi ha sbagliato si assuma le responsabilità. Napoli in questi giorni di grande dolore per la famiglia Iaconis ha dimostrato grande affetto dalla fiaccolata nei quartieri spagnoli, luogo della tragedia, allo striscione appeso dai tifosi partenopei sul lungomare. Napoli piange Chiara, figlia di questa città, si legge sul lenzuolo bianco firmato Curva A. Ieri, nel giorno della messa del patrono San Gennaro, l'arcivescovo di Napoli ha rivolto un pensiero alla famiglia di Chiara. Permettetemi oggi di rivolgere il mio pensiero che si fa preghiera a Chiara, ai suoi familiari ed amici. E a tutti coloro che sono nel dolore per questa morte assurda e tragica, la chiesa di Napoli, la città di Napoli, vi è vicina. Al momento, indagate per la morte della giovane, ci sono due persone, la coppia che vive nella casa da dove sarebbe caduto l'oggetto che ha ucciso Chiara, genitori dei due bambini che giocando avrebbero lanciato accidentalmente la statuetta. La coppia, indagata per omicidio colposo e omessa vigilanza, però al momento continua a negare ogni responsabilità. Grazie a tutti.